l'attacco duro abbiamo visto anche qua abbiamo già parlato di questa cosa che roger love usa il vocalizzo anteponendo alle vocali la g di gatto perché così inseriamo la maschera prima come nell'attacco morbido noi mettiamo la maschera dopo nell'attacco duro invece noi dobbiamo già aver inserito la maschera per cui per capire che cos'è un attacco duro come sentite l'emissione è quasi uno schiocco ora a esatto questo è un attacco duro quindi come nell'attacco morbido noi mettevamo gli strumenti di maschera dopo avevamo un attacco morbido così nell'attacco duro è esattamente contrario a se noi mettiamo gli strumenti di maschera prima abbiamo un attacco duro con l'attacco duro bisogna accertarsi di non spingere troppo quindi di non avere troppo arresto costale perché sennò c'è una compressione negativa quindi ricordatevi che a e a e i o u vedete che se io metto la maschera prima l'attacco sarà di conseguenza un attacco duro questa è la maniera che consiglio e la maniera migliore che posso trovare per ottenere un attacco duro non faticoso mi raccomando quindi non spingete di pancia perché su un attacco duro se poi ci mettiamo anche la la spinta diaframmatica e le rigidità rischiamo di farci molto male quindi l'attacco duro sull'attacco duro è necessario assolutamente d'obbligo non avere rigidità e non spingere non essere rigidi importantissimo grazie a tutti